Ragazzi buongiorno, questo è il posto di Royal Opera House, devo vedere che bello e adesso siamo in mattina, guarda ci sono le gente, turisti, fanno le foto, è bellissimo il posto, è il tipico reale di Oman, Muscat Royal Opera House, noi siamo al centro di Muscat, grazie ragazzi, grazie. Grazie a tutti.